Molto simile alla pizza, ha una forma ovale, il suo impasto è soffice e bolloso, si prepara facilmente. Oggi vi propongo la pinza romana in due varianti. A voi la scelta. Ho setacciato la farina nella ciotola, aggiungo l'acqua a temperatura ambiente, impasto molto grossolanamente, lascio riposare coperta con un canovaccio per un'ora. Nel frattempo lascio sciogliere il sale nell'acqua, metto da parte e ora faccio sciogliere il lievito nell'acqua. Trascorso il tempo di riposo aggiungo il composto di acqua e lievito, impasto fino a quando l'acqua sarà completamente assorbita. A questo punto inserisco l'acqua con il sale, impasto energicamente fino a quando ottengo un panetto liscio ed elastico. Trasferisco nel contenitore leggermente oliato. Verso sopra 10 ml di olio. Bagno tutta la superficie. Chiudo con il coperchio e lascio riposare a temperatura ambiente per un'ora. Trascorso questo tempo do un giro di pieghe. Lascio riposare a temperatura ambiente per 30 minuti. Do un altro giro di pieghe. trasferisco l'impasto nel contenitore, chiudo con il coperchio e lascio riposare il frigo per 15-18 ore. Ho rimosso il contenitore dal frigo, ribalto le impaste e divido in due parti uguali. Do un giro di pieghe e a rotondo trasferisco in due contenitori leggermente oliati. Lascio lievitare fino a raddoppio. Trascorso il tempo ribalto l'impasto sul piano da lavoro infarinato con la semola. Facendo attenzione chiudo prima il bordo, poi stendo il centro senza sgonfiare. Ottengo mille bolle. Trasferisco gli impasti sulla pietra refrattaria ed in forno a 250 gradi, in forno già caldo e statico per circa 20 minuti o fino a quando le pinze risulteranno belle dorate. Ecco a voi miei carissimi amici, le pinze sono pronte per essere subito falcite oppure possono essere falcite in un secondo momento. La prima pinza la falcisco con del pesto, aggiungo l'insalata mista, fette di salmone affumicato, fette di limone, pepe rosa e un filo di olio. Falcisco la seconda pinza con del formaggio fresco spalmabile alle erbe, fette di porchetta, stracciatella come se non ci fossero un domani e pomodorini gialli. Una via di mezzo fra focaccia e pizza. La pinza romana ha conquistato proprio tutti, possiamo sbizzarrirci con gli ingredienti che più ci piacciono, basta un po' di fantasia e il che è fatto. Ciao! 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 Ciao!